Meditate oggi per un momento. Oggi è il giorno della memoria. Se tutto questo sarà per sempre nella vostra memoria e voi lo racconterete ai vostri figli, e loro ai loro, e così per sempre, allora forse tutto questo non sarà stato in vano. Meditate che questo è stato. Le parole di Primo Levi riecheggiano a Caltanissetta, dove oggi, giorno in cui tutto il mondo commemora la Shoah, già in prefettura, dalle 10 del mattino, sono state consegnate sette medaglie d'onore ai familiari di ex internati nei lager. Storie di vita, di destini comuni, di testimonianza dell'orrore, anche nei ricordi dei loro parenti. Quando ho arrivato a casa, mia sorella maggiore, che aveva sei anni, vi di mio padre, gli sembrava quello che voleva rubare i bambini, perché era mal ridotto, stracciato, tutto senza ruba, a piedi, venuto a piedi, se prendevano il treno era una fortuna, ma maggioremente a piedi dalla Germania di tornare in Sicilia. Sono due sentimenti che mi assalgono. Uno di mezza gioia, perché ricordare papà a 16 anni dalla morte e a 70 anni da quello che ha subito, che ha patito, che ha vissuto, che ha sofferto, indubbiamente è una gioia per me, per i miei fratelli, per mia sorella, per mamma che è rimasta a casa perché non poteva rubare. Nello stesso tempo mi ricorda, è proprio sofferenza, il racconto di papà che ci raccontava cose in mani, cose in mani, ma oggi purtroppo siamo costretti a rivivere, andando a vedere quello che c'è in giro nel mondo, guerra, sofferenza, eccetera, eccetera. Nel ricevere questa melania praticamente mi ha commosso tanto, perché mi ha fatto ricordare praticamente certe frasi che mio papà mi raccontava, i sacrifici che ha fatto e la fortuna che ha avuto di ritornare, perché lui non ci credeva, non ci credeva perché è arrivato a pesare 37 kg, non riusciva nemmeno a camminare e con la sua buona volontà è stato fortunato mediante un altro tedesco, perché l'ha rimproverato e ha apprezzato praticamente che lui aveva voglia di lavorare e l'hanno inserito in una fabbrica di legname, così si è rimesso e ha avuto la fortuna praticamente di tornare a casa. Così alla presenza del prefetto Chiara Armenia, delle alte cariche civili, militari e religiose del presidente territoriale Lions e del presidente territoriale Ampi, sono state poi apposte sei pietre d'inciampo, tre nello spazio antistante all'ingresso del consorzio universitario e tre a Santa Lucia in memoria di deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale su iniziativa del Lions Club di Caltanissetta e del Museo di Ocesano. La memoria è alla base della nostra conoscenza e soprattutto gli errori del passato ci devono far capire cosa non dobbiamo fare nel futuro, per cui questo sicuramente noi lo vogliamo trasmettere ai ragazzi e le pietre d'inciampo che partono da un artista tedesco dove segnava i passi delle persone che erano state portate all'esterno delle proprie abitazioni. Noi le abbiamo volute collocare qui perché queste tre persone che sono state internate nei campi di concentramento abitavano in questa strada.